Siamo in compagnia di Massimo Valeri, responsabile del settore macro-area Centro-Sud. Siamo a Lemon Ball, prima giornata, hai visto qualcosa di interessante? Ma adesso siamo appena arrivato, quindi ci aiudevo un attimino a focalizzare un po'. Siamo qui ovviamente perché quello che ci preme soprattutto è questo nuovo progetto che stiamo portando avanti in sinergia con Lemon Ball, che è quello del Raduno Under 12 e Under 14, che lo svolgiamo qui, e quindi coinvolgiamo i migliori a livello nazionale, quindi per noi è importante questo. Il livello ovviamente diamo una mano a Lemon Ball, abbiamo la possibilità di confrontarci e di vedere i ragazzi comunque all'opera durante il torneo, quindi per noi è importante questo. Ovviamente siamo contenti, l'Elemon Ball ha sempre avuto tantissimi iscritti e una grandissima partecipazione perché comunque è in questo contesto molto bello e anche in questa età comunque è abbastanza comoda, perché comoda perché comunque le festività sono... i ragazzi sono a casa per quanto riguarda le festività, quindi hanno il tempo libero per poter partecipare. Quindi il livello è sempre stato molto alto e ci fa piacere dare una mano al torneo con il Raduno Nazionale che appunto vede i migliori anche in campo. Parlavi di progetti, riguardo invece la Regione Lazio con l'arrivo del nuovo presidente del Comitato, state comunque elaborando, sta bollendo in pentola qualcosa di particolare? Sì, tantissime cose, poi è un vulcano lui, bisogna tenerlo a bada perché Roberto Comentucci veramente è una persona molto competente, ma anche comunque sta ereditando un grandissimo lavoro fatto e svolto da Ettore Marte. Siamo molto contenti, c'è tantissima carne al fuoco perché appunto stiamo cercando di far combaciare un po' tutte le attività federali con quelli del Comitato regionale in modo tale da permettere ai ragazzi di partecipare più competizioni possibili e cercando ovviamente di fare in modo che possano essere, tutta la Regione e anche il calendario possa essere coperto nel miglior modo possibile. Grazie mille e ti ringraziamo per la disponibilità. Grazie a voi, grazie a voi.